C'è un paese reale che soffre, c'è un paese che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, c'è un paese che ha grandi difficoltà a fruire dei servizi sanitari, c'è un paese delle persone che hanno difficoltà a vivere una vita normale, dignitosa. 6 milioni di poveri, 5 milioni di lavoratori con il contratto scaduto hanno bisogno di risposte sulla sanità, hanno bisogno di risposte sul lavoro, sulla dignità del lavoro, sulla sicurezza, stiamo ancora troppo fermi, hanno bisogno di dire che in questo paese ci sono persone che pagano sempre le tasse e c'è qualcuno che non le paga mai e il governo fa finta di non vedere. Il paese reale, quello che vive tutti i giorni una vita normale, non quella nei palazzi della politica. Ci sono diverse sensibilità, noi continuiamo sulle piattaforme unitarie, tutti insieme avevamo chiesto di intervenire sulla sanità e i dati anche del DEF, del documento elettorale presentati dal governo dimostrano, se si considera l'inflazione, che gli investimenti in sanità diminuiscono. Abbiamo passato altri periodi dei quali il sindacato ha avuto visioni diverse, supereremo anche questo. È diventato un sindacato filogovernativo secondo voi? Non do giudizi su altri sindacati, parlo del nostro e oggi vorrei parlare della gente che sta in piazza.